E mentre Cinzia sta lavorando noi la interrompiamo solo un secondo per fargli la domanda che abbiamo fatto un po' a tutti. Cosa ne pensa Cinzia dell'improvvisazione nel mondo dei tatuaggi? Chiaramente sono contraria perché il tatuaggio ha dietro una sacralità, una storia e un lavoro incredibile per imparare a tracciare una linea. Quindi tutti i ragazzini che al giorno d'oggi comprano un set in internet a 150 euro e iniziano a tatuare sicuramente fanno del male al tatuaggio, a se stessi perché rovinano la loro pelle e a tutto quello che gira in questo mondo. Nel senso pagare un tatuaggio, un 50 euro in più, però essere sicuri che è fatto da mani esperte, quindi in una chiave artistica e non artigianale di cantina. E soprattutto anche salvando la pelle, la propria pelle sia da un brutto lavoro ma anche da una malattia. Perché comunque improvvisarsi vuol dire non avere esperienza, non avere una scuola dietro e non avere niente. Bisogna andare in uno studio, essere bravi a disegnare e apprendere poi nello studio la tecnica alla vecchia maniera come abbiamo fatto tutti. Quindi questo è il mio pensiero. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a voi.